Il centro di medicina estetica del Marelli Hospital si dota di una nuova tecnologia. Arriva Luxea. La macchina è dotata di un sistema modulare espandibile che sfrutta la luce pulsata, il laser e la radiofrequenza per una vasta gamma di applicazioni estetiche e dermatologiche. Lesioni vascolari e pigmentarie, acne, anti-aging, macchie e imperfezioni della pelle, fotoringiovanimento vascolare e pigmentare e tanto altro ancora. Vieni a scoprirla presso il centro estetico del Marelli Hospital. Cura, il centro del tuo benessere.